L'Audace la ribalta e fa su il derby di Capitanata. Russo, Malcore e Neglia rispondono a Costa e Peralta e il Cerignola dopo sei sconfitte nei precedenti vince il primo storico derby tra i professionisti contro il Foggia. In cronaca Gallo ritrova Costa a sinistra anche in campionato, Rizzo fa il braccetto e Sciaccava in panchina. Pazienza non rinuncia alla difesa a tre e schiera a Scicca a tutta fascia a destra. Prima occasione degna di nota per l'Audace Cerignola dopo 11 minuti, a Scicchi intercetta centrocampo, fa 30 metri pala al piede e lascia partire una conclusione dal limite dell'area terminata di pochissimo al lato. Un minuto più tardi è clamorosa l'occasione fallita dal Foggia, palla recuperata a sinistra, la sfera arriva a Costa che crossa sul secondo palo dove Vutai non c'entra il bersaglio da pochissimi passi. Cinque minuti più tardi i padroni di casa passano in vantaggio direttamente da calcio d'angolo, tiro cross di Costa ma il core e Saracco non riescono ad intervenire e la sfera termina direttamente in porta dopo una deviazione. Dopo sette minuti della ripresa il Foggia raddoppia, per alta sale palla al piede, scambia con Garattoni che chiude il triangolo, l'argentino libera il sinistro sul secondo palo e lascia presa a gire ad una ripresa in discesa. Ma non sarà affatto così, sette minuti più tardi Malcore inventa di tacco per Russo, l'esterno si fa respingere la prima conclusione da Nobile ma è freddo a mettere in porta la ribattuta. Un quarto d'ora più tardi Malcore trova anche il gol, conclusione a volo su assist al bacio di Sainz Mazza e 2-2 l'opera la completa negli, Aschik lo serve in aria, Alex Reggiana la controlla in maniera perfetta, Allen buca tra le gambe di Nobile, 2-3 è festa audace che sale a 20 punti in piena zona playoff, il Foggia invece si ferma dopo 8 risultati utili consecutivi.